allora buonasera e ben ritrovati e ben ritrovati a tutti e tutti a questo ultimo incontro del nostro ciclo voices from contemporary philosophy e penso che abbiamo avuto l'occasione e l'opportunità di ascoltare davvero delle personalità diverse e che però in modo altrettanto valido ci hanno fornito prospettive e voci filosofiche e storiche sicuramente di grandissimo rilievo è un grande piacere questa sera concludere questo questo ciclo con judy revel che ci raggiunge dall'università di pari nanterre anche se tra poco si trasferirà a pari an quindi sarà di nuovo alla sorvona dove già aveva insegnato all'inizio della sua carriera e judy revel è tra l'altro le altre cose presidente del comitato scientifico della del centro michel foucault e del centro imec quindi di questo istituto di memoria dell'edizione contemporanea francese che raccoglie gli archivi di buona parte della filosofia contemporanea francese si è occupata ampiamente soprattutto di michel foucault e in questo senso non sto a farla lunga alcuni di voi c'erano già prima per cui mi piace solamente ricordare che ha curato l'edizione italiana dell'archivio foucault assieme ad alessandro dal lago e alessandro pandolfi naturalmente quindi dell'edizione di parte di cui di tutti quegli scritti di foucault che sono usciti in francese all'interno dei diecris quindi in questo senso sicuramente ha contribuito moltissimo anche a alla conoscenza dell'opera di foucault nella sua nella sua integralità a questo autore poi ha dedicato diversi diversi saggi e più di recente si è occupata del rapporto tra foucault e merleau ponti con un libro che è uscito da vren nel 2015 quindi in questo senso è sicuramente un interprete direi autorevole del pensiero francese più recente e anche di questo questa tematizzazione o pratica filosofica che passa attraverso la storia e ha un pensiero diverso della storia che il pensiero francese in qualche misura ha cercato di ricostruire o ripensare e in effetti la storia sarà al centro del suo intervento di questa sera che ha per titolo che cosa significa dire la storia c'è ringraziandoti di nuovo per essere qui con noi ti do la parola grazie è lo stesso anche questo dunque grazie per l'invito grazie per la pazienza perché alcuni di voi già avuto due ore abbondanti ehm all'inizio del pomeriggio ehm parlerò ancora di foucault e parlerò ancora di storia ehm ma lo farò su tentando di rispondere ad alcune obiezioni eh prettamente filosofiche eh torniamo a un punto di partenza semplice il 1970 un anno di particolare intensità per il Collège de France perché ehm c'è le lezioni simultanea di Raymond Aron alla catena di sociologia di Georges Duby eh alla catena di storia delle società medievali e poi di Michel Foucault alla catena di storia dei sistemi di pensiero il primo anno di Foucault al Collège de France 70-71 il Collège de France prevede dodici lezioni di due ore e dodici piccoli seminari eh di solito da gennaio a a fine marzo ai primi di aprile quindi il primo anno di Foucault al Collège de France 70-71 è stato ricordato soprattutto e conosciuto soprattutto per la sua straordinaria lezione inaugurale il 2 dicembre del 70 che è stata quasi immediatamente pubblicata sotto forma di un libretto in Francia e in Italia forse in Italia addirittura prima eh della Francia l'ordine del discorso che è la lezione inaugurale. Ora qualche anno fa eh la pubblicazione completa dell'intero ciclo di questo primo anno di lezioni al Collège a cura di Daniel Defer che ho già ricordato questo pomeriggio il compagno di Foucault mancato eh il 7 febbraio scorso ehm quindi l'edizione ha ha permesso di riconsiderare nel loro insieme all'ilà dell'ordine del discorso tutte le lezioni del primo anno e più in generale probabilmente eh di riconsiderare Foucault rispetto a quello che pensavamo di sapere di queste stesse lezioni del momento anni settanta. Cosa c'è in quel in quel volume eh che è stato pubblicato credo anche in Italia sotto il titolo lezioni eh sulla volontà di sapere? Beh Foucault vi analizza le condizioni in cui un discorso può essere accolto, identificato, ricevuto come tale e questo è il tema centrale dal dell'ordine del discorso ed è un motivo eh che non smette di tornare dall'inizio alla fine del dell'anno però queste lezioni sulla volontà di sapere dicono anche ben altro. Mostrano eh il modo in cui Foucault sviluppa per la prima volta il tema della storicità di quello che noi chiamiamo verità. Vale a dire il modo in cui la verità non può essere considerata come astorica o come quel punto fisso al di fuori di ogni determinazione storica che permetterebbe precisamente l'appreensione della storia stessa. Per Foucault dal settanta in poi la verità deve essere considerata come costituita storicamente, come una produzione storica, come l'effetto di una configurazione determinata, vale a dire come ciò che Foucault chiamerà in seguito un certo gioco di verità. Parla di giochi di verità al plurale eh di alcuni giochi di verità prodotto di un certo gioco di verità determinato in un dato momento storico e quel momento storico cambia e quindi la configurazione dei giochi di verità è chiamata a cambiare essa stessa. Ora è proprio questo che mi interessa perché vorrei provare a pensare cosa significa dire la storia c'è dal punto di vista della verità o di chi ha a che fare con la verità perché fa filosofia. Cosa significa dire al contempo la storia c'è, la verità c'è e cosa significa tentare di dare uno status specifico alla storicità della verità. Per questo mi sembra che il pensiero Foucaultiano sia ovviamente tra tanti altri una bussola preziosa. Ripartiamo quindi per un attimo solo dall'ordine del discorso, la prima tappa se volete di questo primo anno di lezioni al Collège de France, la lezione inaugurale del 2 dicembre. Il testo fa numerosissime allusioni alla volontà di verità e Foucault si propone di reperire questa volontà di verità e di analizzarne le caratteristiche nella modernità e si tratta in particolare di capire come dal settecento in poi quello che Foucault chiama la massa discorsiva, cioè l'insieme dei discorsi prodotti all'interno di una specifica configurazione storica, di un episteme specifica che è quella dell'inizio della modernità, come quindi questa massa discorsiva si sia organizzata sulla base di, anche lì è sempre complicato tradurre, spartizioni, i famosi partage di cui parla Foucault, spartizioni, divisioni, che assegnano ad ogni produzione discorsiva un posto specifico all'interno di una ben più ampia economia generale delle cose dette, economia generale delle cose dette è un'altra espressione Foucaultiana. Però allo stesso tempo si tratta di capire sotto quali condizioni altri discorsi vengono dichiarati invece irricevibili e di conseguenza per esempio respinti e respinti in una sorta di vuoto o di margine, molto spesso senza statuto o senza nome. E Foucault aggiunge, se lavoriamo su questi discorsi considerati come impossibili da ricevere, da cogliere, da identificare e da far circolare, questi discorsi respinti, si tratta di interrogare il fatto che proprio questi discorsi spinti al di fuori dalla griglia di controllo e di delimitazione che è incaricata di decretarne la ricevibilità o al contrario l'esclusione, proprio questi discorsi si trovano paradossalmente investiti di un valore di verità ed è un valore di verità proporzionale alla loro non corrispondenza proprio con l'insieme delle procedure di identificazione e classificazione messa in ordine e distribuzione che hanno deciso il principio della loro espulsione. Quindi il principio della loro espulsione paradossalmente genera la loro valorizzazione dal punto di vista della verità. Dunque nell'ordine al discorso la posta in gioco sembra ancora in gran parte la stessa che Foucault aveva evidenziata quasi dieci anni prima all'epoca della storia della folia, solo che il testo sposta l'analisi dei meccanismi di inclusione ed esclusione inizialmente incentrata nel suo lavoro del 61 sulla grande frattura tra razio scientifica e disragione, tra ragione e follia se volete, sposta quella divisione, quel partage all'analisi del discorso. Questo è un primo pezzo della configurazione 70-71. Però se proseguiamo possiamo leggere ben altro perché ciò che possiamo leggere in quelle lezioni è anche la lenta trasformazione di queste analisi, analisi che erano ancora archeologiche, cioè che funzionavano come un lavoro di identificazione delle caratteristiche in un dato momento di quello che potremmo chiamare l'ordinamento dei saperi, la cartografia generale dei discorsi. La trasformazione quindi di questa archeologia che lavora su una configurazione passata in una genealogia. Il passaggio dall'archeologia alla genealogia non è soltanto una variazione di concetti o un cambio meramente metodologico, è veramente il cambio di prospettiva dalla ricerca di differenze esistenti tra configurazioni passate e altre configurazioni passate opporre il rinascimento all'inizio della modernità così come intesa da Foucault cioè seicentesca opporre il settecento all'ottocento passato e passato. Quindi trasformare questo approccio archeologico in un approccio genealogico che invece lavora su un punto di frattura che eh gioca tra un periodo passato e il nostro presente come se si capovolgesse la funzione dell'analisi della critica in direzione della nostra attualità. Allora da questo punto di vista ci sono almeno due elementi che sono eh mi sembra decisivi. Il primo è chiaramente l'impatto della lettura di Nietzsche sul lavoro di Foucault e in più in generale su gran parte della filosofia francese del secondo dopoguerra ma questo sarebbe un altro un altro discorso. Ehm qui le cose sono abbastanza chiare eh sappiamo il ruolo che Nietzsche ha avuto nel modo in cui Foucault ha rotto con la sua iniziale molto più spinta di quello che pensavamo formazione fenomenologica iniziale negli anni cinquanta dico molto più spinta perché è stato pubblicato eh due anni fa due anni fa guardo Valentina ehm un testo ritrovato negli archivi inediti che in realtà è una tesi di dottorato quasi interamente compiuta da Foucault e lasciata e lasciata però in un cartone ehm e dedicata la al concetto di mondo in Husserl quindi sono quattrocento pagine su Husserl e Heidegger quindi roba seria non ne ha fatto niente ha accantonato tutto ha ricominciato da capo e ha fatto una ehm una un dottorato di storie della medicina e della psichiatria che darà poi in seguito eh storia della folia nel sessantuno. Quindi chiudo la parentesi. Nietzsche è quello che ha permesso a a Foucault di di rompere con questa sua formazione iniziale eh iniziale negli anni cinquanta. Si può anche ricordare che tre anni prima delle lezioni al Collège de France eh l'edizione del settanta quindi il sessantasette Foucault e Deleuze eh curano per Gallimard il volume quinto delle opere complete di Nietzsche nell'edizione della Pleiade edizione fatta sulla base delle edizioni con i Montinari eh e quindi il volume quinto è quello della Gaia Scienza. Quindi c'è una frequentazione molto assidua eh di di Nietzsche ma le cose sono più complesse in realtà di quello che 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 sembra eh apparentemente. Intanto il Nietzscheismo di Foucault non è quello di Deleuze e non insisto sul punto per ragioni di tempo abbastanza ovvie ma è chiaro che il Nietzsche che interessa Foucault è essenzialmente il Nietzsche delle considerazioni intempestive cioè il Nietzsche che il Nietzsche che fornisce munizioni se volete o argomenti contro una concezione hegeliana della storia ehm che ne ho parlato questo pomeriggio molto presente in Francia nella sua versione per così dire ehm indurita ehm che ne ha presentato un Kogev dal dal dall'inizio del seminario nel trentatré vi ricordo che il la raccolta delle lezioni di dei seminari di Kogev eh viene pubblicata ehm nel quaranta sette quindi subito dopo guerra a partire dagli appunti eh degli uditori quindi quel Nietzsche là eh il Nietzsche della 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 storia il Nietzsche suscettibile di fornire strumenti per una critica della della concezione hegeliana della storia è assolutamente non il Nietzsche della trasmutazione dei valori o del superuomo che invece interessa molto Deleuze Foucault non c'è assolutamente questo significa che in Nietzsche Foucault ritaglia letteralmente una serie di contrapunti la cui funzione anti hegeliana caratterizza precisamente l'importanza e la necessità è una lettura orientata e per così dire strategica di Nietzsche al di là di questo eh punto fattuale in realtà il riferimento a Nietzsche si trasforma e lo fa molto rapidamente è proprio in quell'anno accademico settanta settantuno cioè attorno da una parte al corso al Collège de France e dall'altra alla scrittura di un testo fondamentale ripresa nell'archivio credo ma penso di sì o era già stato pubblicato nel negli scritti letterari non credo che Nietzsche la genealogia e la storia non mi ricordo più dove l'abbiamo pubblicato è dentro l'archivio sì ehm boh è un po' sono un po' accaldata alzheimerizzata e soprattutto l'archivio risale lo dicevo prima al l'abbiamo fatto nel 96 98 quindi calcolate voi sono 25 anni e non ho più la memoria dei testi che abbiamo fatto ehm quindi Nietzsche la genealogia e la storia che è un testo formidabile questo testo è esattamente contemporaneo delle lezioni al Collège de France eh però non dice esattamente la stessa cosa ed è lì che diventa interessante nel testo Nietzsche la genealogia e la storia ci sono in realtà eh cinque elementi strategicamente indicati da Foucault e ancora volta ritagliati da Nietzsche al suo uso e consumo specifico in funzione antiegeliana i primi quattro sono abbastanza ovvi gli ricordo brevemente ehm dunque non avevo il testo italiano perché sono eh senza le mie biblioteche da un mese qua e quindi la traduzione è mia e vi chiedo di scusare la sua a volte goffaggine uno dice Foucault si tratta di individuare cito la singolarità degli eventi al di fuori di ogni monotona finalità di cercarla dove meno ce l'aspettiamo e in ciò che passa per non avere storia e in ciò che passa per non avere storia secondo elemento si tratta di produrre una genealogia interamente costruita contro la storia monumentale e lì riconosciamo la critica iniziale contro cito lo sviluppo metastorico delle significazioni ideali e delle teolo teleologie indefinite tre si tratta di produrre una genealogia interamente costruita contro la storia monumentale ma si tratta anche di opporsi a qualsiasi ricerca dell'origine quattro si tratta di opporre il gioco del caso le jeu du hasard dice Foucault questa casualità degli inizi, le hasard des commencions e la forza dei salti precisamente a questa origine che per Foucault radica in sé la linea continua e prescrittiva della storia intesa come compimento alla quale bisogna assolutamente opporsi ora la linea del caso, la linea della casualità intesa come smantellamento di ogni forma di continuità, di linearità, di teleologia è proprio ciò che per Foucault nel 70 e probabilmente anche per Deleuze definisce l'evento come tale l'evento è quello che viene prodotto da questo smantellamento e poi c'è il quinto punto allora il quinto punto mi interessa particolarmente perché vi appare la verità e appare la verità in modo diverso da come sarebbe apparsa qualche settimana successiva qualche settimana dopo nelle lezioni al Collège de France stesso anno ancora una volta appare ancora in un modo tutto sommato molto classico e molto niciano se la via del ritorno all'origine è bloccata è in realtà l'accesso alla verità che viene bloccato verità intesa come parola dell'origine cito la verità e il suo regno originario hanno avuto il loro momento nella storia ne usciamo appena virgolette nell'ora dell'ombra più corta virgolette chiuse virgolette quando la luce non sembra più provenire dalla profondità del cielo e dai primi momenti del giorno e Foucault qua ho detto virgolette perché cita il crepuscolo degli idoli quindi più classico più classicamente niciano di così non si può le lezioni sulla volontà di sapere qualche settimana dopo il problema diventa tutt'altro ed è quella la cosa interessante il problema sembra essere piuttosto le condizioni di trasformazione o di raddoppiamento del dell'intento archeologico che caratterizzava gli anni sessanta ancora una volta andare a cercare grandi sistemi di pensiero vedere come eh l'uno chiude eh prima che un altro si apra senza peraltro eh ne ho parlato questo pomeriggio a rendere conto del passaggio da una forma epistemica a un'altra quindi rendere conto delle condizioni di trasformazioni o di raddoppiamento del dell'intento archeologico con una un lavoro che eh sia di di analisi genealogica la genealogia diventa la storicizzazione di una descrizione che inizialmente era rimasta statica e che Foucault aveva fino allora chiamato episteme cioè diventa la restituzione alle descrizioni statiche di isomorfismi discorsivi questo sono le episteme no di grandi spazi di distribuzione di organizzazione dei discorsi in un dato momento quindi la restituzione a queste descrizioni di qualcosa come un un elemento dinamico da questo punto di vista raddoppiare l'archeologia con la genealogia significa per esempio interessarsi al modo in cui i diversi sistemi di pensiero si susseguono e nella loro successione mettono in gioco discontinuità sradicamenti, rotture ma anche permanenze, riformulazioni, spostamenti e la figura niciana del salto ne viene resa assai più complessa perché viene ripresa all'interno di una problematizzazione più larga che interroga la figura della discontinuità storica intesa per esempio sia e al contempo come rottura e come spostamento cioè come trasformazione in realtà cos'è una trasformazione? è altro o è proseguimento sotto altre vesti? Lo statuto epistemologico di questa trasformazione questo statuto è ovviamente centrale però è difficile e non è problematizzato in quanto tale in Nice quindi Foucault dovrà andare a cercarselo altrove ora lo annuncio da subito, l'ho detto questo pomeriggio mi sembra che la risoluzione dello statuto della questione dello statuto epistemologico della trasformazione sia cercata da Foucault e sia ottenuta da Foucault prendendo in prestito una serie di elementi a un certo tipo di storiografia di cui Foucault stesso è il contemporaneo in questi primi anni 70 una storia della discontinuità una storia delle trasformazioni dunque una storia che incide sul modo in cui abbiamo pensato la stessa verità e che Foucault come spesso accade mette letteralmente in scena questa drammatizzazione nelle lezioni del 70-71 Foucault drammatizza sempre i punti di tensione parlavo prima di questo pomeriggio delle scene di apertura dei libri per esempio che mettono in scena quasi teatralmente un punto di discontinuità nelle lezioni del 70-71 questa drammatizzazione è interamente costruita per esempio dall'opposizione tra il pensiero greco arcaico e il pensiero greco classico cioè tra il rituale dell'ordalia come luogo di produzione della verità o luogo di accesso alla verità e il successivo annodarsi della verità e della conoscenza una cosa che noi spontaneamente consideriamo come andando da sé e Foucault dice no è ciò che proprio si gioca nel passato nell'uscita del pensiero greco arcaico cioè nell'espulsione dei sofisti nella fine del momento dei sofisti e della tragedia e l'ingresso nella grande tradizione della filosofia classica greca cioè nel dispiegamento univoco di quello che sarà chiamato a diventare lo spazio della metafisica occidentale è quel momento lì che interessa Foucault ora qui mi interessa il gesto metodologico mi interessa anche il suo effetto diretto non si tratta assolutamente di rinunciare alla verità per Foucault si tratta proprio perché si vuol fare una storia della verità prendere la verità sul serio e dire che la verità non c'è nessun motivo che sia esterna alla storia non c'è fuori dalla storia e della storia per Foucault ma proprio perché quindi si vuole fare una storia della verità si tratta per Foucault di ricostruire i giochi di verità cioè le configurazioni storiche che fissano il modo in cui per esempio l'accesso alla verità è stato storicamente concepito ordalia conoscenza pensiero alcaico pensiero classico l'accesso alla verità è stato storicamente concepito e poi di volta in volta ricodificato e come ne sia seguito sia una seguita sia una messa in forma della divisione del partage tra vero e falso e la determinazione del modo in cui alcuni oggetti alcuni discorsi alcune pratiche siano state pensate come ciò di cui la verità può essere deve essere detta per esempio perché a un certo momento la sessualità si mette a dire la verità del soggetto si chiede alla sessualità di essere ciò che dice la verità del soggetto quella è la domanda che Foucault pone all'inizio della storia della sessualità la sessualità diventa dimmi la tua sessualità ti dico quello che sei o chi sei quello per i greci non ha nessun senso per esempio quindi quando dico partizione tra vero e falso costruzione di giochi di verità dico anche lo dice lui il modo in cui alcuni oggetti di oggetti vuol dire oggetti di pensiero oggetti di pensiero discorsi pratiche diventano poste in gioco della verità per esempio del soggetto ora come possiamo fare una tale storia della verità una tale genealogia storica dei giochi di verità la conferenza che Foucault tiene all'università McGill in Canada nell'apri del 71 quindi in mezzo alle lezioni del Collège de France e che Daniel Deferre che fa la cura del corso ha scelto di includere nel volume delle lezioni ha incluso la conferenza perché mancava una lezione e siccome era totalmente contemporanea e corrispondeva ha infilato la conferenza e funziona molto bene questa conferenza si intitola come pensare la storia della verità con Nietzsche senza fondarsi sulla verità son sapuie sulla verità come fare una storia della verità senza fondarsi sulla verità insomma come possiamo produrre la storia di qualcosa se quel qualcosa, la verità non è affatto una cosa ma una costruzione storica il prodotto di una storia un prodotto che non preesiste mai alla storia che lo ha fatto essere quello che è è qui che io penso utile almeno è l'ipotesi che volevo formulare qua stasera paradossalmente mettere in contatto questo primo ciclo di lezioni Foucaultiane ancora una volta 70-71 con gli ultimi due cicli che sono 83 e 84 Foucault muore nel giugno dell'84 a qualche settimana della fine delle ultime lezioni due occorrenze il 5 gennaio 83 prima lezione l'inizio dell'azione che apre il corso dell'anno il corso chiaramente annunciato come dedicato al concetto di paresia famoso dir vero ma è preceduto da uno stranissimo excursus su Kant ne abbiamo parlato prima quindi già è strano dalla paresia si risale stranamente a Kant per diversi minuti proprio all'inizio della lezione però Foucault fa altro prima ancora di introdurre il riferimento a Kant e poi di tornare la settimana successiva che il 12 gennaio all'antichità e alla paresia Foucault torna sul significato generale del suo progetto di ricerca e del progetto di insegnamento anche al Collège e lo fa come? lo fa a partire dalla distinzione accuratamente tracciata tra da un lato ciò che bisogna intendere con una storia dei sistemi di pensiero questo è il titolo della sua cattedra dal Collège de France sempre rivendicato storia dei sistemi di pensiero e dall'altro una storia delle idee che Foucault sceglie poi di declinare in storia delle mentalità e storia delle rappresentazioni Foucault attribuisce alla storia delle mentalità un tipo di lavoro situato lo cito su un asse che va dall'analisi dei comportamenti effettivi alle espressioni che possono accompagnare questi comportamenti sia che li precedano che li seguono che li traducano che li prescrivano che li mascherino che li giustificano eccetera eccetera attribuisce pure alla storia delle rappresentazioni sia cito di nuovo l'analisi delle ideologie che cito l'analisi delle rappresentazioni in funzione di una conoscenza di un contenuto di conoscenza o di una regola o di una forma di conoscenza considerata come criterio di verità o comunque come verità di riferimento verité repère dice Foucault rispetto alla quale fissare il valore rappresentativo di tale o tal'altro sistema di pensiero inteso come sistema di rappresentazioni di un dato oggetto ecco chiedo Venia per la la pessima qualità della mia traduzione quello che trovo interessante è che Foucault definisce per differenziazione il proprio progetto perché ciò che vuol fare invece è ben altro è l'analisi di quello che lui chiama dei foyer d'experience focolai e di esperienza in cui si articolano insieme in primo luogo le forme di un sapere possibile in secondo luogo le matrici normative del comportamento per gli individui e infine i modi virtuali di esistenza per dei soggetti possibili per dei soggetti possibili e aggiunge questi tre elementi quindi forme di un sapere possibile matrici normative del comportamento e i modi virtuali di esistenza per dei soggetti possibili sono lo cito i tre elementi costitutivi di quello che potremmo definire un focolaio di esperienza allora ciò che colpisce nell'autorappresentazione nell'autopresentazione che Foucault fa del proprio lavoro è secondo me un elemento in particolare in una delle caratterizzazioni della storia delle rappresentazioni che Foucault propone in queste righe che ho ricordato una caratterizzazione ancora una volta contro la quale definisce il proprio lavoro Foucault parla di cito di nuovo un'analisi delle rappresentazioni in termini di un sapere di un contenuto di sapere o di una regola di una forma di sapere considerato come criterio di verità o comunque come verità di riferimento rispetto alla quale si può fissare il valore rappresentativo di tale o dall'altro sistema di pensiero ciò che si tratta di mettere a distanza è dunque l'esistenza di un criterio di verità di un metro di valutazione fisso di un punto di riferimento in funzione del quale far giocare tale o tal'altra rappresentazione della storia per esempio è proprio la critica dell'idea se non della misurazione di uno scarto comunque di una differenziazione delle varie rappresentazioni che è resa questa misurazione paradossalmente possibile dalla presupposizione di uno o di più invarianti in virtù del quale o dei quali valutare un dato sistema rappresentativo allora credo che sia un punto importante perché poi nel manoscritto delle lezioni che abbiamo troviamo poco dopo un'intera analisi che Foucault non ha svolto oralmente perché i prof sono sempre in ritardo non aveva tempo ma che una nota a piedi pagina dell'edizione critica ci restituisce nella versione intera questo sviluppo non pronunciato oralmente ma previsto e scritto redatto riguarda proprio le obiezioni e i rimproveri che sono stati mossi a Foucault all'epoca sia dagli storici che dai filosofi per aver portato la sua impresa di storizzazione al suo totale compimento cioè per aver rinunciato ad ogni invariante per aver storicizzato gli universali e così sembrava molti all'epoca e forse sembra ancora qualcuno per aver abbandonato ogni criterio di verità le qualifiche ovviamente molto dispregiative molto negative probabilmente formulate all'epoca Foucault le riprende nel proprio testo e sono abbastanza eloquenti le cita e quindi immagino le abbia sentite negativismo storicizzante negativismo nominalista negativismo con tendenze nichiliste queste sono in realtà le critiche fatte a Foucault e la spiegazione che Foucault dà in reazione a queste obiezioni o qualifiche la spiegazione che dà della propria ricerca è particolarmente chiara Foucault dice che in sostanza si tratta per lui di sostituire cito una teoria del sapere del potere o del soggetto con l'analisi delle pratiche storiche specifiche sostituire universali come la folia il crimine la sessualità con l'analisi di esperienze che costituiscono forme storiche singolari oppure cito ancora costruire una forma di riflessione che invece di indicizzare le pratiche a sistemi di valore che permettono di misurarle iscrive questi sistemi di valore nell'interazione di pratiche arbitrarie anche se intellegibili in realtà ciò a cui assistiamo è una sorta di quasi ritorno 5 gennaio 83 siamo molto dopo del tema del 71 si potrebbe dire nei termini di Nietzsche come possiamo strappare la conoscenza come possiamo strappare la conoscenza a questa estrema violenza imposta dalla filosofia greca classica secondo cui la verità in realtà è il predicato di se stessa e allo stesso tempo la questione posta da Foucault non è solo un problema filosofico interroga anche in modo specifico la pratica dello storico immaginate che le conseguenze di quel tipo di analisi ha degli effetti diretti sulla pratica della storia della disciplina storica da parte degli storici ora proprio tra gli storici Michel de Sertot sembra essere ne ho parlato questo pomeriggio un po' Michel de Sertot filosofo storico e analista lacaniano ma questo li lo perdoniamo perché in più è gesuita Sertot sembra essere stato colui che ha formulato molto presto e forse anche in modo più stringente più chiaro la domanda dall'interno del pensiero storiografico stesso ancora una volta Sertot era storico per essere più precisi l'ha formulata in un'obiezione scritta già nel 67 al al Foucault di Le parole e le cose è una recensione Le parole e le cose pubblicata all'origine nel 67 nella su una rivista gesuita che si chiama Etude Sertot osserva cito sotto i pensieri egli Foucault scorge un fondamento epistemologico un socle epistemologico che gli rende possibili questi pensieri tra le molte istituzioni esperienze dottrine contemporanee egli individua una coerenza che sebbene non esplicita è comunque la condizione e il principio organizzativo di una cultura c'è quindi dell'ordine il yà dell'ordre dice Sertot ma continua Sertot cito questa ragione è un sottosuolo che sfugge alle stesse persone di cui fonda le idee e gli scambi ciò che dà ad ognuno il potere di parlare nessuno lo parla c'è dell'ordine il yà dell'ordre ma esiste solo nella forma di ciò che non si sa nella modalità di ciò che è diverso rispetto alla coscienza lo stesso le même l'identico l'omogeneità dell'ordine ha la figura dell'altro l'eterogeneità dell'inconscio o meglio dell'implicito dice Sertot e chiude il suo lavoro il lavoro di Foucault desidera dire la verità dei linguaggi ma è una verità che non si pone in relazione con nessun limite fine della citazione vogliamo farla più sintetica e breve il c'è c'è nell'ordine è il punto cieco del pensiero di Foucault questo c'è ilia presuppone in realtà un regime di verità che non è mai tematizzato e che non è mai storicizzato questo è 67 nel 78 facciamo un gran salto è toccato a lo storico grandissimo storico carissimo amico di Foucault dai tempi della scuola normale Paul Venn antichizzante in un testo dal titolo abbastanza eloquente Foucault rivoluzione la storia formulare ciò che a suo avviso è o era la vera posta in gioco delle analisi foucaultiane e probabilmente ha colto il punto lo fa giungendo a un postulato di metodo che stranamente agli antipodi delle critiche di Sertò che ricordavo un attimo fa perché Foucault diventa per Venn precisamente la figura emblematica di un rifiuto della presenza di della presenza di invarianti nella storia non la distruzione della storia né la distruzione della verità ma l'idea che una storia della verità è possibile e che non richiede che la stessa verità sia posta al di fuori di ciò che permette di valutare i fatti gli eventi la concretezza della storia ora ovviamente ciò espone Foucault e espone lo stesso Venn a un'obiezione immediata storicizzare senza resto non significa forse condannare l'analisi storica al relativismo variante filosofica è ancora possibile una storia della verità che non sia preventivamente ancorata o costruita a un concetto di verità è ancora possibile una storia della verità se non costruita sull'idea stessa di verità su questo punto Venn risponde mi sembra che risponda con grande acutezza lo cito un relativista ritiene infatti che nel corso dei secoli gli uomini abbiano pensato cose diverse su uno stesso oggetto sull'uomo sulla bellezza alcuni hanno pensato questo in un altro momento alcuni hanno pensato quell'altro andate a capire cos'è vero ma questo è per il nostro autore rendersi infelice per nulla poiché è proprio il punto in questione a non essere lo stesso da un'epoca all'altra fine la citazione ora la cosa che mi interessa è che paradossalmente è proprio perché è stato Foucault a spingere la storicizzazione all'estremo che Paul Venn lo considera all'opposto esatto di un relativista lo scopo del lavoro della storia quasi del travaglio della storia nel cuore della filosofia non è quello di stabilire variazioni sulla base di un metro o di descrivere nel tempo lo sviluppo di un oggetto le cui metamorfosi si applicherebbero nonostante tutto e un po' paradossalmente a qualcosa come una sua stessa permanenza dell'oggetto per esempio una storia della verità che prevederebbe che in un dato momento si è detto questo la verità in un altro si è detto questo la verità in un altro ancora si è detto questo la verità e infine questo era l'inglismo ma prevede che verità sia un oggetto fatto circolare nella storia dall'inizio alla fine prevederebbe che la verità è un oggetto dato la cui apprezzione si modifica nella storia ma si applica a questo oggetto dato ora ciò che fa la storia della filosofia a volte è questo ma ciò che la storia fa alla filosofia è l'esatto contrario di questo cito Venn la verità filosofica è stata sostituita dalla storia fine della citazione vale a dire la storicizzazione si applica al modo in cui gli stessi oggetti del pensiero sono costruiti prodotti e non soltanto percepiti o catturati da un certo tipo di apprezzione ed è proprio con un ritorno alla storia della folia che Venn conclude la sua argomentazione una frase come gli atteggiamenti nei confronti dei pazzi sono ampiamente variati nel corso della storia è metafisica e verbale rappresentarsi una folia che esisterebbe materialmente al di fuori di una forma che la informa come folia fine della citazione l'oggetto folia non esiste prima che sia emerso in un altro momento in quanto oggetto folia in quanto oggetto di pensiero folia ovviamente esistono dei pazzi ma non è quello che noi chiamiamo oggi pazzi insomma non si può dire che esiste una storia delle variazioni di un oggetto se quest'ultimo è precisamente considerato come un invariante astorico a cui la storia in modo secondario si applica descrivendone le variazioni è esattamente il problema della storia della verità così come veniva formulato nel 7071 al Collège de France da Foucault se facciamo una storia della verità costituendo la verità non come una serie di giochi di verità storicamente determinati ma come un oggetto inevitabilmente verseremo nella metafisica la verità non è un oggetto la verità e un rapporto e questo rapporto è un prodotto della storia stessa questo è il ragionamento Foucaultiano e questo è il costruttivismo storico che Venn attribuisce a Foucault e che Foucault è stato probabilmente portato a formulare e a attuare negli anni 70 non esiste una storia da verità esiste solo la lenta sedimentazione di diversi modi di costruire la partizione le partage tra il vero e il falso su oggetto o su regioni di esperienza o su pratiche che sono a loro volta costruiti e costituiti nella storia il che significa che dobbiamo produrre una storia dei giochi di verità sulla base di forme di veridizione che sono a loro volta cangianti ora se ho ancora cinque minuti c'è una seconda occorrenza in cui Foucault stranamente sullo stesso modello interrompe il corso di quello che doveva essere la sua analisi e torna sulla questione del rapporto del lavoro filosofico con la storia e insiste sull'approccio che rivendica e ancora una volta una lezione del Collège de France questa volta è prima cinque anni prima quattro anni prima e all'inizio del corso del 78 79 nascita della biopolitica corso super straccitato e straanalizzato ma nessuno prende atto di questa precisazione fondamentale anche lì introduce la nozione di arti di governo in linea con le analisi fatte l'anno precedente poi fa una pausa e apre una sorta di parentesi cito testualmente questo implica immediatamente una certa scelta di metodo sul quale cercherò di tornare in futuro più a lungo ma vorrei subito far notare che la scelta di parlare o di partire della pratica governamentale è ovviamente un modo abbastanza esplicito per lasciare da parte come oggetto primario primitivo già dato un certo numero di nozioni come ad esempio il sovrano la sovranità il popolo i sudditi lo stato la società civile tutti questi universali che l'analisi sociologica così come l'analisi storica e l'analisi della filosofia politica usano effettivamente per rendere conto della pratica governamentale in questa prima lezione del 79 Foucault riprende di fatto termine per termine tutta l'argomentazione che Venn aveva sviluppato per lui in Foucault Révolution l'histoire Foucault riprende la storia siamo nel 78 quindi il testo di Venni qualche mese prima tutto ruota attorno a una critica radicale di quello che Foucault chiama gli universali ma che si potrebbe chiamare altrettanto facilmente invarianti nella storia o invarianti della storia l'idea di Foucault è semplice fare storia non significa fare la storia della variazione o delle variazioni di uno stesso oggetto concetto da un periodo all'altro anche se questo implica discontinuità apparentemente forti il grande classico della democrazia greca della democrazia moderna per esempio non si tratta di fare la storia delle variazioni del concetto democrazia costruire una storia significa per Foucault mostrare le discontinuità sì ma a partire dal modo in cui gli oggetti di pensiero gli oggetti del nostro pensiero sono storicamente prodotti vale a dire emergono in quanto tali nella storia l'intero approccio di Foucault si colloca a metà strada tra una storicizzazione radicale dei sistemi di pensiero e una sorta di costruttivismo storico se volete ora in questa notevole pagina del settantavo del settantanove Foucault procede e procede in modo inaspettato per il pubblico lo cito in altre parole invece di partire dagli universali per dedurre fenomeni concreti o invece di partire dagli universali come griglia obbligatorie di intelligibilità per un certo numero di pratiche concrete vorrei partire da queste pratiche concrete e per così dire passare gli universali al settaccio di queste pratiche non che questa sia quello che si potrebbe chiamare una riduzione storicista la quale riduzione storicista consisterebbe in cosa? beh appunto nel partire da questi universali così come sono dati e vedere come la storia li modifichi o li riformuli o infine ne stabilisca la loro la loro invalidità lo storicismo prende l'universale come punto di partenza e in un certo senso lo sottopone alla prova della storia lo sottopone alla rap dell'histoire la grattugio letteralmente della storia dice Foucault il mio problema è tutto il contrario io parto da una decisione al tempo stesso teorica e metodologica che consiste nel dire supponiamo che gli universali non esistono e poi pongo alla storia e agli storici la domanda come si fa a scrivere la storia se non si ammette a priori l'esistenza di qualcosa come lo Stato la società il sovrano i sudditi e dunque esattamente il contrario dello storicismo quello che vorrei qui stabilire non mettere in discussione gli universali usando la storia come metodo critico ma partire dalla decisione che gli universali non esistono per chiedersi che tipo di storia possiamo fare fine di questa lunga citazione allora abbiamo uno storicismo filosofico da un lato in una pratica storica della storicizzazione cioè di costruzione degli oggetti e degli oggetti del pensiero nella storia dall'altra per lo storicismo nulla sfugge alla storia ma gli oggetti di pensiero sono per così dire immersi nella storia il che presuppone che questi oggetti per potersi immergere esistano indipendentemente dalla storia e che si tratti quindi di leggere gli effetti storici di variazione su un paradossale nucleo di invariabilità di questi oggetti per la storicizzazione storica cioè pensata alla maniera della storiografia e della pratica degli storici per quella storicizzazione così come è stata concepita sia da Foucault che da Paul Venn non solo tutto è immerso nella storia ma tutto è costruito dalla storia e nella storia un oggetto di pensiero non è altro che il modo in cui è stato in un dato momento prodotto non c'è nulla in esso che preesista a questa produzione o alle possibili metamorfosi che esso poi registra passando da un sistema di pensiero a un altro non c'è nulla che ci dica che durerà come oggetto di pensiero oggetto di sapere oggetto di pratiche perché se a un certo punto è apparso è immerso potrà anche scomparire cioè lasciarsi alle spalle lo statuto di oggetto che aveva acquisito in una specifica configurazione del nostro pensiero è la fine delle parole e le cose può darsi che un giorno quella cosa che si chiama uomo ed è diventata oggetto di una produzione massiccia di discorsi di sapere sotto il nome scienze umane può darsi che un giorno questo oggetto scompaia non l'uomo non è la morte dell'uomo come la morte di Dio è la configurazione dei discorsi che forse può cedere davanti a un'altra configurazione e quindi beh la verità non preesista la storia che ne fissa la forma e i criteri finisco per quanto riguarda i filosofi beh la decisione di Foucault questa radicale storicizzazione degli universali e della verità è stata vista da alcuni in realtà da molti come un e continua a essere vista almeno in Francia come un doppio tradimento intanto un tradimento dell'eredità dell'illuminismo se il rapporto di Foucault con l'illuminismo in generale con Kant in particolare ne abbiamo parlato questo poeriggio può essere definito un rapporto di eredità cosa che chiaramente non è e poi un tradimento d'altra parte della responsabilità etica della filosofia perché alla fine volendo storicizzare tutto forse rischiamo di relativizzare i valori fondamentali che noi figli delle rivoluzioni democratiche del del settecento rivendichiamo e dobbiamo rivendicare non è questa forse la sede e poi parlo sempre troppo per dare conto di un dibattito che ha attraversato il tempo che si è svolto su più fronti dalle polemiche sulle corrispondenze giornalistiche di Foucault sulla rivoluzione iraniana del settantotto di cui parlavo in questo pomeriggio che alcuni consideravano il risultato di una perdita totale di punti di riferimento morali e politici e dall'accusa di incoerenza metodologica del progetto Foucaultiano eccetera eccetera agli attacchi ad una concezione del potere che cercava per i detrattori di Foucault di tracciare una microfisica e quindi cercava di dissolvere i soggetti politici così come il pensiero politico moderno l'aveva cercato di pensare tutto questo è in realtà un'accusa di relativizzazione e di dissoluzione ora in questa vasta gamma di critiche è particolarmente interessato il dibattito che ha contrapposto in modo sempre indiretto mai diretto e mal dichiarato però consistente che ha contrapposto Foucault ad Habermas e agli habermassiani primi anni Ottanta simultaneamente con la polemica Habermas Derrida la radicale divergenza nelle letture che Foucault e Habermas fanno ancora una volta simultaneamente dei lumi è evidente e denota da un lato la riaffermazione dell'eredità dell'illuminismo universalismo dei valori centralità della ragione e le conseguenze politiche di ciò dall'altra la scelta di riorientare il cantismo degli ultimi anni attorno a un modo di pensare la storia che metta al primo posto la virtualità sempre presente della rivoluzione il famoso passo che citavo questo pomeriggio del conflitto di facoltà virtualità sempre presente della rivoluzione è ciò che include in sé la storia che include in sé la propria discontinuità e assegna proprio all'etica la responsabilità di sperimentare questa quello che Foucault chiama la differenza possibile quindi per gli uni a Bermassiami la responsabilità etica è nell'universalismo nell'universalismo dei valori per gli altri Foucault e i Foucaultiani è il fatto di pensare la storia come virtualmente sempre piena di momenti di apertura e biforcazioni che possono dare luogo a qualcosa come un processo rivoluzionario la responsabilità etica e il reperimento di questa virtualità il dialogo non è un dialogo l'equivoco ovviamente tra le due posizioni è totale le due lutture sono assolutamente divergenti le conseguenze politiche di questo attrito filosofico di questa polemica beh sono immediate come lo nota molto chiaramente Rainer Rochlitz che è stato il traduttore di Habermas in Francia nonché un filosofo anche lui il pericolo di un'eccessiva storicizzazione è di relativizzare la posizione stessa dell'investigatore cioè la possibilità di un discorso sulla storia che sembrerebbe essere il luogo dell'etica cito Rochlitz che probabilmente è stato uno dei più duri con Foucault fino a che punto la storia anche se articolata filosoficamente ci permette di fare un passo indietro diventando uno storico del presente Foucault getta un occhio da etnologo sulla nostra vita attuale distrugge le nostre ovvietà e ci porta a mettere in discussione le nostre certezze in questo modo svolge un ruolo intellettuale autentico e pretende di farlo allo stesso tempo però sembra che la vigilanza di Foucault si fermi alle condizioni di possibilità delle sue stesse domande lo storico racconta da un punto di arrivo che non sceglie l'inizio e la fine di una storia che presenta ai suoi occhi una certa unità significativa ma la storia la sola non gli fornisce gli strumenti concettuali che gli permettono di decifrarla fine recitazione ora senza questa decifrazione per Roshlitz non ci può essere comprensione e senza comprensione non ci può essere qualcosa come un'azione eticamente valida e politicamente giusta questo è il ragionamento di Roshlitz ora mi sembra che il difetto fondamentale che Roshlitz individua nel nel pensiero di Foucault si è proprio al centro dell'impresa foucaultiana cito un'ultima volta secondo una delle definizioni che egli dà della sua opera nel suo complesso Foucault si interroga sulla storia della verità torniamo al problema della verità sui giochi di verità descrivibili descrivibili solo dallo storico ma non si interroga quasi mai sulla verità della storia che sta scrivendo al massimo ammette che il compito di dire la verità è infinito strettamente dipendente dall'attualità la sua teoria critica non vuole né è in grado di precisare i criteri con cui attacca certe forme storiche di potere di conoscenza o di soggettività non vuole per paura di costruire un nuovo sistema di legittimazione e non può nella misura in cui non ha alcuna distanza rispetto all'atto sovversivo della sua messa in discussione fine la citazione ora la critica lo vedete è doppia Foucault trasformerebbe la storia della verità in una storia di diversi insiemi di verità il che lo porterebbe a perdere ogni punto di riferimento e poi non espliciterebbe mai la verità che potrebbe permettere al suo lavoro di essere davvero una teoria critica il che paradossalmente toglierebbe o priverebbe la sua analisi di qualsiasi potere o di qualsiasi incisione realmente politica perché diventerebbe incapace di giudicare e quindi si ridurrebbe semplicemente essere una sorta di potere destituente di poteri delegittimazione dell'esistenza senza alcuna forza di proposta o di azione sarebbe una semplice al meglio una semplice reattività negativa irragionevole e affettiva più generalmente nessuna storia della verità sarebbe possibile senza il riconoscimento di ciò che è la verità o senza la fissazione della norma di verità in base alla quale siamo autorizzati a parlare Rochelis risponde così alla domanda che Foucault si era posto nella sua prima lezione al Collège de France del 71 come si fa a fare una storia della verità senza concetto della verità non si fa non è possibile però la risposta è proprio ciò che Foucault è proprio ciò contro cui Foucault scusate si scontra nel suo stesso lavoro perché perché quello che prova di spiegare Foucault è proprio questo e forse ci riesce tutto è prodotto dalla storia non esiste nessuna distanza rispetto alla storia distanza in termini di Rochelis nessuna analisi della verità può fondare una posizione critica a monte o per così dire fuori o a valle della storia stessa ora lo vedete se il niceismo di Foucault deve essere completato o riesiminato riesaminato attraverso ciò che che Foucault deve a una certa storiografia di cui è contemporaneo che evidentemente è emersa esattamente nello stesso periodo in cui Foucault gira attorno a questi temi cioè 67 fine anni 70 se il problema metodologico del relativismo storico è in effetti abbastanza facilmente evacuabile sul versante filosofico il problema del giudizio morale sembra resistere molto di più come si fa a rispondere al problema del giudizio morale dei valori o dei criteri della morale forse occorre prendere un altro punto di partenza per rispondere alle critiche riprendere la costituzione dell'indagine etica in Foucault etica e non morale in quanto questa indagine etica rivendicata come etica non come morale ancora volta impegna a sua volta giochi e relazioni e modalità e configurazioni e tecniche e perimetri che sono in tutti i casi parte integrante di un momento storico determinato non nel quadro nell'ambito di qualcosa come il sistema del pensiero ma perché sono relativi a un sistema di pensiero tale sistema di pensiero o tal'altro sistema di pensiero allora vorrei ricordare per chiudere un aforisma di Nietzsche un aforisma che Foucault cita all'inizio della conferenza di McGill nel 71 è strano perché l'aforismo è il paragrafo 432 Foucault cita all'inizio non la fine io vorrei citare la fine dell'aforismo perché mi sembra pertinente traduzione mia dalla traduzione francese quindi noi ricercatori noi studiosi come tutti i conquistatori tutti gli esploratori tutti i navigatori tutti gli avventurieri siamo di una moralità audace e dobbiamo trovare buono tutto sommato che ci facciano apparire come dei cattivi l'uomo etico nella versione Foucaultiana è il cattivo dell'uomo morale il niciano in qualche modo è il cattivo dell'aristotelico e forse Foucault storico filosofo filosofo storico entrambe le cose è il cattivo di tutti i filosofi della storia forse non tutti tutti e di certi anche lì non tutti storici della filosofia beh un grazie sincero a Judy Revelle per questa direi puntualissima ma anche ispirata ricostruzione della questione della radicalia storicità e storicizzazione della verità che Foucault mette in campo questa volontà di Foucault di fare i conti con la storia di quell'errore che ha nome verità come scrive dentro a quel testo bellissimo che appunto nice la genealogia e la storia è un po' una questione che a me sembra sempre essere un filo rosso di tutta la produzione del cantiere di Foucault a proposito di continuità e discontinuità questo fare i conti con la storicità della verità e rimane forse anche oltre a Foucault rimane una questione dal punto di vista teoretico che sicuramente continua a interrogarci e però anche dal punto di vista politico stavo pensando che la citazione sull'inesistenza degli universali quel bellissimo passo della prima lezione del corso sulla biopolitica decisamente eloquente in questo senso in fin dei conti si tratta sempre di capire un po' di fronte a questa inesistenza appunto degli universali politici che tipo di storia possiamo fare ma anche che tipo di politica possiamo continuare a costruire e agire in questo spazio di virtualità sempre presente nella storia che c'è così ben delineato tra oggi pomeriggio e ora quindi grazie davvero proverei a dare la parola a Valentina Mora Francesco Rapparelli che sono con noi Valentina da Verona e Francesco Rapparelli ci raggiunge da Roma invece se avete qualche reazione poi immagino che ci sia qualche domanda quindi grazie mille grazie infinite Giuditta è stata una cavalcata abbastanza lunga abbastanza impressionante e ci sono tantissimi elementi in generale in tutti questi anni primi anni settanta che poi ritornano nell'ultimo Foucault ma che secondo me segnano diciamo degli elementi importanti per capire tutto Foucault e un primo elemento è sicuramente un elemento di cui non hai parlato oggi ma che c'è nei tuoi testi ed è quello dell'ontologia cioè cosa intendiamo per ontologia quando parliamo di Foucault e un'ontologia storica cosa ci contribuisce quando ad esempio vogliamo capire la questione della forza delle cose quindi veramente capire la storia ma nel darsi degli eventi in questa fenomenologia degli eventi e perché è un'ontologia politica propriamente politica e poi volevo chiederti forse una questione che per me è particolarmente cara ovvero il riferimento poi nei corsi in cui Foucault parla di verità sulla questione di Edipo perché con il riferimento che ritorna ricorsivamente a Edipo la verità viene proprio teorizzata come ricerca di verità in Foucault quindi c'è tutto questo percorso che sembra il percorso che fa lo storico nel temporalizzare il percorso della ricerca dei tasselli di verità in qualche modo e che forse mi sembra anche significativo rispetto alla lettura di Nice da parte di Foucault grazie ringrazio anch'io moltissimo Giuliette Revelle per la relazione molto ricca e gli spunti che hanno percorso tutto il pomeriggio vorrei porre una domanda questione sul tema della genealogia e un paio di domande che invece hanno a che fare con le correnti sotterranee i rapporti tra Foucault e autori sia francesi ma non solo francesi del novecento quindi sperimentando congiunzioni che magari sono esagerate forzate e capendo insieme fino a che punto possono funzionare sulla nozione di genealogia parto da un'esperienza di lavoro di ricerca che sto facendo in questo momento esperienza che mi fa dire non c'è storia senza genealogia quindi mi fa assumere fino in fondo la ricchezza e la bellezza del testo Foucaultiano del 71 assumendo che genealogia significa avere a che fare con la provenienza e con l'emergenza e non con l'origine il che significa che abbiamo a che fare con un disparato con l'eterogeneo con il discontinuo con ciò che per la metafisica di Aristotele non può avere scienza cioè con l'accidente con il fortuito con la singolarità degli avvenimenti tema della ricerca che mi affanna la moneta è possibile una storia della moneta una storia di questa istituzione sociale che è anche un oggetto filosofico che è anche un simbolo una strazione e sappiamo che la moneta è apparsa nella storia già sei sette secoli avanti Cristo poi è scomparsa dalla storia poi è riemersa e si è trasformata nella modernità capitalistica se proviamo a pensare al problema della moneta ci troviamo ad avere a che fare con un insieme di concetti che sono senz'altro pratiche ma sono anche istituzioni e non istituzioni sociali come la moneta ma istituzioni politiche istituzioni che possono esercitare forza vincolo violenza e cioè possiamo pensare la moneta senz'altro ma poi dobbiamo avere a che fare con la storia delle banche l'affermazione l'emergenza delle banche centrali emergenza che non è stata per nulla pacifica se pensiamo che negli Stati Uniti sono fallite prima due banche nazionali e si è arrivati alla Federal Reserve solo nel 1913 quindi diciamo la genealogia ha a che fare sì con il rapporto delle forze ma queste forze poi anche si organizzano e si cristallizzano in istituzioni che hanno potere quindi la moneta senz'altro emerge dal mercato dalla pratica dello scambio nelle fiandre a partire dai comuni italiani e non solo nel tardo medioevo però la moneta è anche mano a mano l'affermazione della banca la coniazione della moneta la difesa militare di una certa moneta la forza militare di una certa moneta ora è possibile pensare la genealogia a partire sì dalle pratiche ma anche dalla cristallizzazione egemone o dominante di alcune pratiche che si fanno istituzioni questa è la prima domanda le seconde due molto rapidamente sulle relazioni congiunzioni possibili so che in Francia se ne discute si scrive al riguardo giochi di verità e giochi linguistici per un verso e quindi il rapporto possibile o impossibile tra Foucault e Wittgenstein aggiungo un altro elemento che ha a che fare interamente con la tua relazione di oggi il Foucault degli ultimissimi giorni di vita che pensa e parla dei cinici e il cinico dicevi pratiche di veredizione mostra la verità di ciò che dice con la propria esistenza e qui c'è addirittura un Wittgenstein del tractatus cioè il dire e il mostrare e il mostrare che emerge come questione etica decisiva è un rapporto possibile che magari passa per un certo modo di intendere Nietzsche Wittgenstein nelle ricerche usa la parola il concetto di somiglianze di famiglia che è un concetto nicciano che emerge già in al in al di là del bene e del male la seconda congiunzione possibile Foucault senz'altro anti Sartre e però Sartre modificato dalla rottura con Merleau-Ponty in critica della ragione dialettica parla continuamente del primato dell'avvenimento singolare sulla costituzione del soggetto quindi una singolarità in qualche modo pre-individuale che precede appunto l'individuazione c'è una corrente sotterranea pur nella polemica tra questi autori che appunto poi si sono occupati insieme di carcere e hanno sottoscritto anche vibranti appelli politici negli anni settanta ancora grazie per la relazione no vabbè velocemente guardo il tempo perché se no mi dunque sull'insistenza degli universali molto velocemente non si tratta di dire che non abbiamo bisogno di riferimento a qualcosa come uno degli universali per poter lo dico per esempio perché la domanda di solito è ah ma cosa fate dei diritti dell'uomo dei diritti umani adesso cosa fate di 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 tutti quei valori che permettono per esempio se ne parlava stamattina e questo pomeriggio di dire che è una cosa intollerabile o insopportabile e di reagire rispetto a non si tratta ovviamente di fare fuori questa scatola degli atrezzi che è una scatola di valutazione si tratta semplicemente di riconoscere che ha un'origine storica quindi di ricontestualizzare il fatto che i diritti umani non sono eterni da sempre e per sempre hanno una data di nascita e questa data di questa data di nascita conta perché intanto vuol dire che sono più fragili di quello che possiamo pensare perché possono anche scomparire e vuol dire anche che la modifica progressiva del loro significato può anche portarli a una crisi relativa questo non dice niente contro dice la necessaria presa in conto di una modificazione storica quindi lo dico perché io anni fa ormai molti anni fa ho fatto una tesi di dottorato con Marcel Gaucher storico e filosofo che è uno dei grandi specialisti della riflessione francese e in particolare della dichiarazione dei diritti ha lavorato molto su CIS e sulla e mi ricordo discussioni infiammate con Gaucher che mi diceva non può fare fuori ma io intanto non facevo niente e l'altra il fatto di rimettere nella storia o di ricollocare nella storia qualcosa a cui si dà un valore oggi universale non mi sembra parlare contro sull'ontologia dunque l'ontologia non è per Foucault ontologia e metafisica sono totalmente giocati l'uno contro l'altro l'ontologia è in senso molto banale magari piatto e magari non propriamente filosofico ma è così che la gioca l'ontologia la produzione di nuove forme di essere e l'essere per lui è storico e immanente cioè la vita la vita nel senso più 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 concreto più materiale quindi l'ontologia si dice della produzione di nuove forme di vita che sono sempre comunque relazionali e quindi sempre tese tra poli soggettivi o o estese o articolate su forme di rapporto anche conflittuali ma che prevedono comunque sempre un oltrepassamento della figura dell'individuo questo è ontologia laddove c'è invenzione di forme di vita di modi di vita c'è ontologia lo dico perché è per questo che la funzione strategica della soggettivazione in Foucault è così importante la soggettivazione non è mai individuale è sempre tesa tra vari e quindi a questo punto ci può essere qualcosa come del nuovo e quindi da lì nasce l'ontologia in altri la soggettivazione prende poco spazio per tutta una serie di altre ragioni per esempio in Deleuze la soggettivazione non c'è c'è una composizione di forze in modo quasi meccanico una decomposizione di forze dice Deleuze e quindi e quindi l'ontologia come la si pensa beh la si pensa su un modo totalmente diverso che prende a Bergson ed è un vitalismo Foucault non è assolutamente vitalistico è sociale è politico è storico ed è immanente in Deleuze è immanente ma non è storico è politico ma è vitalistico quindi sono due derivazioni secondo me e su Edipo sono perfettamente d'accordo è un la centralità del riferimento a Edipo il fatto che torna in permanenza e fare sarebbe interessante ma l'hai fatto tu no funge da matrice in realtà assolutamente per Francesco sulla genealogia sulla moneta non lo so sì penso di sì ma non non lo so che si debba fare anche una istituzione una genealogia delle non so se partendo ma tenendo conto comunque del fatto che ci sono punti di cristallizzazione egemonica tra virgolette sì assolutamente quindi la genealogia è anche un'analitica dei poteri per dire però è anche un'analitica dei 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 punti o delle linee di resistenza possibile su Foucault Wittgenstein sì si è fatto molto negli ultimi anni in particolare in Francia in particolare in Sorbonne a Parian perché c'è un grosso gruppo di Wittgensteiniani cominciare da Daniele Lorenzini e sul parallelismo tra giochi di verità e giochi linguistici sì su linguaggio ordinario e statuto del quotidiano anche sull'ordinario linguistico e il quotidiano antropologico in Foucault e Wittgenstein su Foucault Sartre che Sartre si sia ne paravamo prima questo pomeriggio al bar che Sartre si sia spostato totalmente nel 60 con la critica ragion dialettica sono perfettamente d'accordo però per esempio quando tu dici che l'evento precede il soggetto per Foucault un evento non precede mai il soggetto nel senso che non c'è una relazione non è in cui termini che si un evento può essere qualcosa che scardina un ordine esistente ma non è un'epifania viene prodotto dalle stesse condizioni nella storia e dall'agire umano quindi comunque c'è qualcosa come una una centralità del soggetto il soggetto è la soggettività è prodotta dalla storia però retroattivamente produce la storia ed è quella reversibilità per questo che io sono andata a scomodare il concetto di chiasma che ho preso a Merleau-Ponty no il chiasma in Merleau-Ponty non so se vi ricordate vagamente il chiasma percettivo vedente visto toccante toccato eccetera Merleau-Ponty dice è totalmente reversibile il rapporto ma voi percepite solo la metà è indissociabile quando io prendo la mia mano sinistra con la mia mano destra sono allo stesso tempo toccante toccata però sento a scelta o la mano presa o la mano che prende non riesco a avere la percezione dell'una e l'altra cosa simultaneamente questo è il chiasma indissociabile eppure esclusivo è un po' così nella storia anche cioè abbiamo l'impressione che siamo fatti dalla storia oppure abbiamo l'impressione che agiamo la storia e Foucault dice è un chiasma cioè non lo dice lui lo dico io ma dice in realtà siamo entrambe le cose solo che percepiamo soltanto la metà e bisogna ricostituire la reversibilità della condizione storica umana quindi l'evento non precede il soggetto niente precede il soggetto grazie naturalmente provo a chiedere se c'è qualche domanda se c'è qualcuno che vuole aggiungere qualcosa abbiamo sicuramente già avuto moltissimo modo di discutere nel corso del pomeriggio però Giulia bene grazie anche da parte mia della ricchissima relazione più che una domanda una richiesta di chiarimento di approfondimento riguardo quando parlavi di questa virtualità sempre presente la rivoluzione vorrei capire un po' meglio cosa si intende perché mi ricordava insomma autori con cui credo Foucault non abbia mai avuto a che fare per esempio Benjamin insomma in cui la rivoluzione è la rottura ed è sempre possibile in un qualche modo e quindi un pensiero rivoluzionario utopico intendendo non utopia una storia teleologica però mi rendo conto che le differenze in realtà sono enormi quindi vorrei capire se è possibile sapere qualcosa di più grazie su Benjamin paradossale io l'ho segnalato mille volte perché è un gioco però c'è quel passo nell'ultimo intervista che Foucault ha rilasciato che è stata pubblicata dopo la sua morte su una rivista svizzera in cui i due poveri intervistatori dicono ma allora gli autori che hanno contato per lei chi sono eccetera e Foucault fa una risposta sibillina e dice ci sono tre tipi di autori ci sono quelli che conosco e uso ci sono quelli che non conosco e non uso e poi ci sono quelli che veramente hanno contato per me e quelli non li cito mai e gli altri dicono cosa e Foucault risponde beh questo è il lavoro vostro e quindi e io all'inizio anni fa mi sono divertita a fare la mappa delle figure che non compaiono in Foucault e per esempio Wittgenstein tipo sette volte per dire delle cose irrilevanti ed è centrale Lacan ancora di meno Francoforte dice quattro cose di cui tre sono sbagliate e quindi è un po' Cassierer è strano e non funziona chiaro Plutino Plutino lo cita mai Plutino non conta quindi non non è così sistematico però è un gioco per qualcuno che ha lavorato così tanto sui giochi linguistici e letterari ha lavorato molto su Roussel questa idea di fare di mettere delle insidie delle trappole nel proprio pensiero è una cosa fortissima in Foucault quindi Benjamin non compare che io sappia è evidente il rovesciamento rispetto al modello beniaminiano del rapporto al Foucault apre sul futuro non guarda le spalle no? e quindi questo è una vera differenza però su moltissime cose su produzione creazione invenzione per esempio si potrebbe fare tutto un discorso sul Foucault è un anticritico della tecnica Foucault è appassionato dalle mutazioni di cui vede l'ambivalenza ma anche lì ci sono degli echi e sul e quindi no sarebbe da fare sarebbe molto bello da da costruire in Francia non è mai stato fatto che io che io sappio ah sì è chiaro sì sì c'è un numero di materiali Foucaultiani sì e poi ci sono non so Giorgio Didi Hubertman per esempio è uno che è uno che lavora contemporaneamente con Benjamin normalmente Warburg e Benjamin e con Foucault Paolo Costa non so se qui dentro c'è qualcuno come me che ha questo atteggiamento verso Foucault è di ammirazione ma antipatizza è lo stesso tipo di reazione che mi provoca David Hume allora ogni tanto ricorro a Simmel e mi dico ma forse è una questione di temperamenti filosofici e ho proprio l'impressione che Foucault sia un empirista radicale e io non lo sono perché sono assolutamente convinto che non so l'inizio della fenomenologia dello spirito l'inizio della fenomenologia della percezione di Merleau-Ponty sono dimostrazioni della non autosufficienza della sensazione e quindi la mia domanda oggi è proprio come si fa se si è veramente degli empiristi radicali ad avere un concetto di storia che sta in piedi insomma come si fa che è una bella astrazione la storia mentre Foucault sembra usarla come il massimo concreto ma anche il concetto di vita non è un concetto concreto è un'astrazione per cui questa è la mia curiosità a me Hume sta molto simpatico e pure non sono per niente formato no più seriamente credo che Foucault non è un empirista Foucault sostituisce l'ho detto un po' questo pomeriggio perché lo dice lui Foucault sostituisce un certo numero di termini con delle pratiche dice io smetto di parlare di conoscenza perché mi interessano le pratiche che producono discorsi di sapere o le pratiche che producono quello che noi chiamiamo conoscenza l'ha detto in una cosa che ho letto prima non mi interessa la verità mi interessano le pratiche che fissano un orizzonte di verità o dei criteri di veridicità non mi interessa il potere lui lo dice in modo più provocatorio il potere con la P maiuscola non esiste ma interessano i rapporti di potere non so se questo è empiricità se questo è empirismo interessarsi alle pratiche e non mi interessa la storia interessano l'insieme delle pratiche che vengono consegnate a cosa beh per esempio alla messa in racconto alla messa in ordine di quello che poi verrà chiamato suscettivamente la storia si interessa della materialità dei documenti della documentazione della messa in ordine di questa cosa che chiama all'inizio archivio in francese si dice les archives al plurale lo so che in italiano in inglese si dice al singolare io la prima volta che ho fatto ho lavorato molto sugli archivi in tempi in chiave filosofica la prima volta che sono andata aux archives national e ho detto alla conservatrice l'archive mi ha detto ma non esiste l'archive esistono les archives e aveva ragione e Foucault probabilmente se ne rende conto cioè dopo aver parlato il discorso l'archivio ha decentrato verso le pratiche ora si può dire che non basta filosoficamente io ho l'impressione ma è un'ipotesi mia sulla quale sto lavorando adesso sto iniziando a lavorare che nello scenario filosofico francese dopo il 45 che integra tutta una serie di parametri assai diversi dal paesaggio italiano per esempio il fatto che anch'io sono d'accordo che inizia un spirito è una cosa però noi abbiamo avuto Kojev che è un grandissimo testo però che indurisce e non tutti ma sono tutti o contro o dentro un orizzonte di di contraposizione con Kojev tutti e lei dice Merle Pontier al seminario per esempio quindi Foucault no però Foucault eredita questa cosa qua e cerca di salvarsi quindi sto spostamento sulle sulle pratiche a me mi sembra che permetta a una serie di persone non tutti ma molti per i quarant'anni successivi di di produrre la doppia critica della storia da una parte e del soggetto Foucault dice della da Cartesio la fenomenologia ed è un po' abusivo però si capisce l'idea la doppia critica della storia hegeliana e del soggetto da Cartesio la fenomenologia di sostituire questi due poli messi giù e con qualcosa perché se no è un vuoto totale cioè se no si spiega si spiega quello che è stato lo strutturalismo in Francia che ha anche prodotto molte cose però quale orizzonte politico e filosofico senza soggetto e senza storia questa è la la vera domanda c'è chi ha tentato di tenere quella posizione senza storicità e senza o senza storia e senza storicità e senza soggetto processi senza soggetto e da beh è da Deleuze per esempio che ha una carica politica evidente un'utilità formidabile un'immenso siamo d'accordo che non a caso rimane nel solco della storia della filosofia paradossalmente anche se è quello più strano i lavori su Nietzsche su Spinoza su Jung lui sì è dentro quello che descrive e poi ci sono quelli che cercano di reintrodurre qualcosa come una storicità e degli agenti degli uomini delle donne in carne e ossa delle persone che ci sono ecco e lo fanno a partire dalle pratiche mi sembra che le pratiche riaprono l'orizzonte di discussione ora quel modello lì che sto provando a costruire ancora una volta sono soltanto all'inizio mi sembra funzioni molto bene per Lefevre per Merleau-Ponty in modo chiaro per Foucault per Rancière per molti altri quindi insomma dipende quello che intende per empirismo io non penso sia un empirista Foucault proprio perché vuole vuole perché vuole integrare una dimensione ontologica non so se sono stata chiara grazie anche per questo direi che ne è uscito davvero un ritratto a tutto tondo di Michel Foucault penso anche a quel riferimento alle insidie alla trappola della pagina Foucaultiana che facevi prima e dovremmo anche aggiungere tutto il gioco di Foucault sul tema della finzione quando dice non ho mai scritto altro che finzioni però direi che l'ora è tarda e quindi penso sia arrivato il momento di ringraziare Judy Revelle per la generosità con cui ha accettato il nostro invito anzitutto ma anche per la generosità con cui davvero ha risposto alle nostre domande e a fronte degli stimoli che penso risuoneranno a lungo per tutti e tutte noi grazie anche a voi per aver partecipato a tutto questo ciclo e buona serata grazie a tutti grazie a tutti